di Luca l'inchiesta ti chiedi cosa ti aspetti da questa nuova avventura io sono venuto una grande squadra come Frosinone sicuramente per raggiungere l'obiettivo che andare ai playoff poi anche in Serie A però credo che dobbiamo vedere partita dopo partita portare più punti più punti a casa e poi si vedrà alla fine. Pantano Autosport come ti trovi da mezz'ala nel 352 e qual è il tuo ruolo ideale? Ancora non lo so qual è il mio ruolo ideale però credo che la mezz'ala me la cavo bene posso fare la mezz'ala e io sono qui il mister dove ha bisogno io darò il mio 100% però come mezz'ala mi trovo meglio. Di Luz oggi sport venire a Frosinone significa la possibilità di giocare con continuità credi che un campionato da te giocato ad alti livelli potrebbe riportarti in orbita a Juventus? Come l'anno scorso io sono stato a Pescara per fare il mio diciamo alla fine ho giocato molto e quest'anno questa opportunità come ho detto prima in una grande squadra di Serie B come Frosinone per trovare la continuità e portare la squadra dove va portata con i miei compagni. Poi a me piace vedere il presente e proverò a fare sempre il massimo per questa società e poi quello che verrà verrà. Hai già un po' risposto, Papitto Agente Comune ti chiede comunque che obiettivi ti poni individualmente e di squadra in questa stagione? Individualmente voglio fare una grande stagione con i miei compagni e abbiamo la squadra forte perché la squadra è forte e ognuno si aiuta l'altro escono le qualità di singolo e vorrei fare qualche gol in più perché l'anno scorso purtroppo non ho segnato e questo non mi piace perché a me piace segnare e basta. Alessandro Salines, Gazzetta dello Sport, abbiamo notato che a me tirare in porta anche da fuori ma a finora hai segnato poco, a Frosinone ci sono le condizioni per migliorare questo dato? Certo, l'ho appena detto che io non sono soddisfatto dai miei dati dell'anno scorso però purtroppo è stato un anno difficile per tutti i calciatori, per tutto il mondo credo eppure è stata per me. Sono qui a Frosinone per riprendermi tutto quello che mi aspetta anche fare tanti in gol, io vorrei fare tanti in gol però devono arrivare piano piano, arriva. Anche di Rienzo del messaggero ti chiede a Frosinone è sempre mancato un tiratore da fuori, adesso sei arrivato tu, quanti gol potrebbe ottenere la squadra da te? Dipende, se il mister mi utilizza come mezzala aspetto tanto anche da me, devo fare almeno 5-6 gol e poi certo io provo sempre a tirare perché se non tiri non fai mai gol, può succedere di tutto quando calci, proverò sempre anche da mediano a fare qualche tiro, però vediamo, vediamo. Alessandro Andrelli, TG24, è un campionato equilibrato, quello della Serie B come sempre e dove si colloca il Fosinone può lottare per te per i primi posti? Certo che possiamo lottare, dobbiamo avere l'atteggiamento giusto perché io ho visto in questa squadra calciatori forti con grandissime qualità e questo mi fa piacere perché di sicuro io a fine anno migliorerò 100% e l'obiettivo nostro è andare in Serie A ai play-off e poi si vedrà perché certo che la Serie B è un campionato equilibrato, però devi avere sempre la testa giusta perché se ti stacchi un attimo ci sono squadre che ti possono far male. L'ultima, Franco Turiziani-Ciociaria, giocare tre partite nel giro di 6 giorni richiede un enorme dispendio fisico, riuscirai a recuperare per la prossima gara? Vabbè, ora sono stato in nazionale, ho fatto tre partite in 7-8 giorni, il lavoro nostro è giocare, non c'è meglio di giocare che a fare allenamenti, allora io sono a disposizione, subito domani dobbiamo fare una grande vittoria pure e poi si vedrà partita dopo partita chi sta meglio gioca, chi non sta bene può superentrare e aiutare la squadra, però io sto bene. Grazie.